BASTA VIOLENZE POLIZIA 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 BASTA VIOLENZE 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 POLIZIA BASTA VIOLENZE fee sfruttiamo la massima solidarietà nel confronto dei feriti, ma sicurità per le parti dell'arco dei numeri di cittadini sui casi di miser, li aspettiamo tutti sabato 24 novembre per un corteo cittadino, per provare a costruire a partire dalla scuola e dai saperi, il mondo è una società, una città che è aperta e giusta, che è aperta e giusta. Grazie